E' venuto a trovarci Francesco Zini, che è il presidente del forum toscano delle associazioni per i diritti della famiglia. Buongiorno intanto, benvenuto. Parliamo di un convegno che il forum sta organizzando, una giornata che sarà il 28 settembre nel Palazzo Guadagni Strozi Sacrati, quindi in Piazza Duomo a Firenze, un'occasione per celebrare i 20 anni di attività del forum. Che giornata sarà? Sarà una festa, speriamo, perché è una celebrazione che serve a ricordare 20 anni di impegno. Io sono arrivato adesso da un anno, ma insomma mi hanno preceduto tanti altri presidenti e tante altre persone. E quindi sarà una festa per ricordare quello che si è fatto nel passato, guardando anche al futuro, perché poi la famiglia è la struttura della nostra società e dobbiamo pensare al futuro. Io dico sempre che la F di famiglia fa con la F di futuro appunto la simbiosi perfetta, senza la famiglia non c'è futuro. Questo è il motto del forum, direi. Si parlerà però anche del passato in qualche modo, cioè di quello che il forum delle associazioni per la famiglia ha fatto in questi 20 anni, un cammino in cui ha cercato appunto di proporre il valore della famiglia anche in ambito sociale, in ambito politico, dialogando anche con le istituzioni. Con le istituzioni, sì. E proprio questa è la mission del forum, è quella di essere appunto una rete di associazioni, di tante associazioni che si occupano soprattutto di accoglienza, di lavoro, di attività sociali e quindi essere sempre di sostegno e svolgere delle azioni concrete. Ecco, l'aspetto che secondo me va sottolineato nell'azione del forum è che non è un laboratorio, un think tank, anche il nostro incontro non sarà un convegno, ma è una testimonianza di cosa si può fare e di quale proposte possono essere fatte a favore della famiglia. Quindi al convegno ci sarà il cardinale Giuseppe Betori, arcivescovo di Firenze, per dire anche quanto la chiesa punta sulla famiglia, sul valore della famiglia, ci sarà anche Stefania Saccardi che è assessore al regionale della sanità, alle politiche sociali, per parlare con lei invece di come la famiglia possa essere una risorsa importante, se pensiamo soprattutto all'ambito sociale, appunto a quello che la famiglia fa ad esempio per la cura dei bambini, per la cura degli anziani, in qualche modo sollevando per tanti versi le istituzioni, la società da compiti che sarebbero altrimenti ingestibili. Sì, noi svolgiamo proprio un compito che all'interno del principio di sussidiarietà, cosa vuol dire? Vuol dire che spesso il forum è stato chiamato in questi 20 anni dalle istituzioni comuni, in particolare dalla regione toscana, a svolgere delle azioni, delle azioni di politiche sociali all'interno del welfare e questo perché si è creato un rapporto, grazie anche a chi mi ha preceduto e sottolineo uno per tutti, Gianni Fini, Mario Macaluso, tutte persone che hanno costruito dei rapporti con le istituzioni in questi anni per svolgere delle azioni. Le azioni sono state soprattutto nell'ambito educativo, della formazione, dei consultori familiari e anche nell'accoglienza alla natalità, perché questa è forse proprio oggi la vera emergenza per la regione toscana. Ecco, di questo ne parlerà anche Gianluigi De Palo, che è il presidente nazionale del forum delle famiglie, uno dei suoi temi più cari sicuramente è proprio quello del sostegno alla natalità, di fare in modo che anche le nuove generazioni in qualche modo possano fare famiglia, possano fare figli, possono appunto dare un futuro al nostro paese. È vero, con Gigi appena arrivato appunto ha creato questo focus sulla natalità e ha colto nel segno perché è la vera emergenza demografica che noi stiamo vivendo in tutte le regioni, in particolare la nostra, nelle nostre città. Io sono stato in Lunigiana proprio poche settimane fa e anche lì ci sono fenomeni addirittura di spopolamento di certi paesi che vengono appunto spopolati perché non ci sono più nuovi bambini, nuovi cittadini. Quindi questo è il punto su cui investire. Gigi ha creato addirittura un documento che si chiama Patto per la Natalità e ha coinvolto tutti gli attori politici più importanti chiedendo a loro di impegnarsi a creare delle politiche per la famiglia e per i nuovi nati. Questa è veramente la vera sfida per il nostro futuro. Ecco, una sfida che si vince anche su tanti versanti, quello ad esempio dei servizi sociali fornendo alle coppie, alle nuove famiglie di strumenti per poter crescere dei figli, si vince anche sul versante economico attraverso per esempio un ripensamento della fiscalità su base familiare. Anche questo è uno dei punti su cui avete spesso insistito nel dialogo con le istituzioni. Esatto, questo è certamente il Patto per la Natalità, nasce dall'idea dell'introduzione del fattore famiglia che è appunto una sorta di revisione del modello ISE che serve appunto per sostenere e premiare in qualche modo le famiglie numerose, chi fa più figli e sostenerlo in questa grande impresa perché in effetti è un dono che lui fa, questa famiglia, questi nuovi genitori è un dono che fanno a tutta la società di avere nuovi cittadini che saranno nuovi contribuenti, nuove persone che apporteranno certamente benefici a tutti e a tutti quanti. Quindi la logica è quella di introdurre dei benefici appunto che non siano solamente sussidi o bonus ma che siano delle riforme strutturali che riguardano la famiglia perché c'è bisogno proprio di un cambio, di un cambiamento di anche mentalità. E il forum devo dire che soprattutto nell'ambito del protocollo che è stato firmato con la regione toscana l'anno scorso, nel 2017, svolge anche questa funzione, cioè di raccontare la bellezza della famiglia nelle scuole e di svolgere anche all'interno del sistema dell'istruzione ai nostri ragazzi che appunto la famiglia è un bene, è un bene comune, è un bene per tutti quanti. Ecco anche questo, spesso diciamo in questo dibattito qualcuno oppone il fatto che il ribadire diciamo l'attenzione sulla famiglia voglia in qualche modo porsi in contrapposizione con altre forme di unione, aprire delle polemiche. Invece credo che molto dell'impegno del forum sia quello in positivo, cioè quello di far sapere, far vedere quello che rappresenta la famiglia di utile, di importante per la società e quindi chiedere che tutto questo venga riconosciuto, in qualche modo venga aiutato, venga sostenuto. Soprattutto sottolineare dei valori positivi, come vedi il nostro convegno si intitola gratuità e solidarietà e sono due elementi che appunto in qualche modo si contrappongono alla logica dell'interesse, del guadagno o comunque della logica di massimizzare in qualche modo il proprio tempo. La gratuità è quello che si vive nella famiglia, è quello che noi anche come forum le associazioni chiedono ai loro soci di dare il proprio tempo per fare delle azioni, oltre al proprio lavoro e oltre alla propria famiglia e questo significa che sono due valori, la gratuità e la solidarietà che possono diventare due valori pubblici e in questo senso sono solo positivi, non hanno nessuna valenza negativa e non si vogliono contrapporre a nessuno perché costituiscono appunto l'elemento della solidarietà e della sussidiarietà, perché poi queste azioni che noi facciamo la maggior parte delle volte sono svolte da volontari o comunque da persone che poi dedicano e donano il proprio tempo a svolgere come facciamo noi delle azioni per tutti quanti. Sostenere la famiglia, per esempio mi viene in mente un tema, dicevamo sicuramente della natalità dei bambini, ma può voler dire anche aiutare una famiglia che cura in casa un anziano, una persona malata a sostenere questo impegno, quindi riconoscendo anche il valore sociale di tutto questo, cioè il fatto che in questo modo sicuramente si solleva il servizio sanitario da un peso, però la famiglia allo stesso tempo non può trovarsi sola a sostenere questo peso. Questo è l'aspetto più importante, la famiglia aiuta chi o dovrebbe aiutare chi sta per nascere e chi si avvia in qualche modo alla fine della propria vita, è un modo per non essere soli anche, è un fatto, l'ha ripetuto anche nell'udienza che c'è stata per i 25 anni del forum nazionale, abbiamo fatto un'udienza col Santo Padre Papa Francesco e lui ha ribadito proprio questo, che la famiglia si contrappone alla logica dello scarto, non si scarta nessuno, non si scartano i nuovi nati, comunque in qualunque situazione si arrivino e non si scartano gli anziani. La famiglia tiene uniti, ecco l'aspetto, la parola chiave che io sottolineerò anche il 28 è proprio l'unità. Il movimento a sostegno della famiglia è un movimento di unità, cioè di unità tra generazioni, tra anziani e giovani e all'interno tra appunto padri e madri e figli che si giocano. È una logica che certamente si contrappone a quella che viene definita oggi l'egolatria o l'individualismo. Certamente in questo senso si contrappone, lo sottolinea spesso anche il Santo Padre. Noi dobbiamo pensare che anche il figlio nei diritti, il bambino che nasce ha dei diritti, i diritti ad avere dei genitori, un padre e una madre e questo costituisce un bene anche per lui. Questo lo ribadisce spesso anche nell'udienza ultima che c'è stata, il Santo Padre. Grazie a Francesco Zini, appuntamento allora per il 28 settembre con il convegno Gratuità e Solidarietà per la Famiglia per fare il punto su questi 20 anni di cammino del Forum Toscano delle Associazioni per i Diritti della Famiglia. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.